Il tema dell'ambiente, il tema della salute, il tema dello sport sono tematiche importanti e fondamentali che come associazione vogliamo concentrare la nostra attenzione proprio perché rappresentano quello che deve essere il nuovo welfare, il nuovo modo di pensare, di aiutare, di sostenere i cittadini. Le città si stanno continuamente trasformando, stanno diventando sempre di più centrali in quella che è la vita. Noi dobbiamo anche dare non solo una buona amministrazione ma anche una qualità di servizi e per fare questo dobbiamo concentrarci molto su quella che è la qualità della vita. Per questa ragione abbiamo affrontato la tematica della salute, salute intesa come benessere, come sport, come attività fisica, come sana alimentazione e su questa tematica proprio in virtù dell'accordo che abbiamo sia con il CONI che in modo particolare con Health City, le città del benessere, stiamo in qualche modo incentrando su quella che deve essere un'azione forte e sinergica che i comuni rivendicano anche in tema di salute e sanità non solo in ambito regionale ma anche in ambito comunale.